GF VIP 7, Antonino Spinalbese risponde alla fantasiosa del web su sua figlia Luna Marie. Negli ultimi mesi, sul web, è diventata virale Tatiana, una donna ormai in nota per accusare personaggi famosi di essere la madre biologica e legittima dei loro figli. È successo a Chiara Ferragni e Fedez con la loro piccola vittoria ed è successo anche ad Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez con Luna Marie. Anche mentre Antonino si trovava all'interno della casa del GF VIP 7, Tatiana ha continuato a fare video nei quali sosteneva di essere la madre legittima della bambina. Nonostante questa teoria sia particolarmente fantasiosa, sul web c'è chi l'ha ripresa seriamente e ha invitato Antonino a dire quella che secondo loro sarebbe la verità, ossia che Luna Marie non è sua figlia. Dopo mesi di illazioni, ora Antonino Spinalbese ha deciso di rispondere a questa assurda teoria e lo ha fatto in modo molto ironico.